Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole oggi è mercoledì 4 dicembre 2019 lascia e ti mostri il trade profittevole che ho fatto durante l'apertura pitusa sull'SP-1000500 bene, ieri abbiamo avuto una giornata, un forte gap down come vedi, giornata è stata in forte gap down un rettangolo giallo evidenzia il gap ancora aperto nella sessione di ieri c'è questo livello qua importante dove esattamente c'è il minimo overnight in questo scenario overnight ci sono due distribuzioni una sotto e una qua sopra e quindi c'è accettazione di più alti prezzi in questo scenario c'è un precedente pullback qui e un altro pullback più recente qua l'intuizione che ho avuto era di andare long long va bene, ti faccio vedere come mai e perché bene, il mercato cosa fa? apre in gap up, va bene? due candele rosse a un minuto dall'apertura pitusa come vedi ci sono smart buyer che stanno comprando qui e qui il mercato sta andando a ribasso io entro quando ho visto ancora più buyers entrare dopo questo pullback su questo precedente di Naviola che è un precedente punto di mezzo di una sessione recente il primo target è sul prezzo di apertura l'ultimo target è su questa linea tratteggiata nera che è un PLC precedente pitusa ok? il mio stop loss è strutturale sotto qualche tic sotto questo ultimo pullback della sessione overnight bene, il mercato come vedi a questo punto inizia la sua corsa a rialzo mi prende i primi set target a questo punto il mio stop loss da qua a brecchime più 1,2 e poi il mercato cosa fa? inizia la sua espansione a rialzo io mi proteggo dietro ai big buying balance qui c'è un big buying balance di oltre 600 ordini e poi il mercato come vedi boom va a target perché questi sellers erano trappolati e per uscire hanno dovuto ricomprare le loro posizioni e portare il mercato a rialzo e poi è andato ancora più a rialzo e come vedi anche dal foot 30 minuti smart buyers hanno comprato più io sono entrato in un altro con l'iniziativo buying dopo che smart buyers hanno comprato qua bene, il mio stop loss mi ha portato 625 dollari caro amico, se anche te potete dare in questo modo un potere divino il mercato difficile della situazione delle opzioni trattando ovviamente nel flusso con questi mercati finanziari allora scrivi la tua storia adesso e mandami la link sotto a questo video ti auguro grossi grazie su così profitti e non ci vediamo la prossima sessione di trading ciao all'almighty e ci vediamo domani